Il dottor Lessi sta operando un cancro gastrico. Dal suo ufficio, pochi piani sotto i suoi piedi, in sala operatoria, i chirurghi ricevono in tempo reale informazioni vitali sulla procedura. La clinica ospedaliera di Barcellona sta sperimentando con successo un sistema basato sul 5G, che consente ai chirurghi di trovarsi virtualmente in due posti. Posso immaginare di fare tutto dal mio ufficio, dice. Se sono in Sud America, ad un congresso, posso continuare a far parte del mio team, operando nel mio ospedale. Immaginate se questa idea esplodesse in qualsiasi parte del mondo. Il 90% dei chirurghi non può viaggiare per stare al passo con le nuove tecniche. Per il dottor Lessi, espandere la conoscenza è una questione di grande importanza. Si può operare da Barcellona e Marocco, dice ancora il dottore, e spostare gli strumenti da qui a lì. È l'ideale, ma probabilmente ora è limitato a pochi pazienti. Col sistema che proponiamo in 5G diventa come una semplice telefonata. È possibile usare il cellulare, disegnare con una matita o un dito e dire Ok, si fa così. Con un semplice box collegato alla rete, i migliori esperti possono osservare l'operazione e interagire col team chirurgico, fornendo istruzioni cruciali durante l'intervento. La magia del 5G fa il resto. Con lo stesso livello di qualità dell'immagine, video e interazione, è come se potessi teletrasportarmi in un'altra posizione. La tecnologia 5G riduce al minimo la latenza. Col 4G c'è un ritardo di 4 secondi per direzione. Ciò significa una latenza di 8 secondi. In chirurgia quel tempo può essere una questione di vita o di morte. Quando diciamo taglia in 8 secondi, qui probabilmente non è più lo stesso punto e mettiamo a rischio il paziente. Col 5G invece abbiamo un quinto di secondo. In pratica non c'è margine d'errore in tal senso. Grazie alla tecnologia 5G i medici possono offrire la propria abilità in remoto ad altri professionisti in qualsiasi parte del mondo. La tecnologia è pronta, ora dipende dallo sviluppo della rete il renderlo possibile. La clinica ora sta sviluppando una rete di chirurghi connessi al 5G e si confida che l'assistenza remota e il telelavoro possano diventare una pratica comune in chirurgia entro un anno, almeno nei principali centri medici. L'implementazione di una rete consiste nel riconoscere le esigenze e soddisfarle. Il numero di connessioni 5G rappresenterà il 15% dell'industria mobile globale entro il 2025 e circa la metà del totale negli Stati Uniti. Sfortunatamente l'espansione globale del 5G resta ancora un miraggio.